Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo dalla cronaca, ancora furti in abbinazione in città, colpi messi a segno tra via Sansovino e via Tiepolo. Vediamo il servizio. Ho visto una persona sul balcone con la veranda aperta, però io ero sicura di averla chiusa. Quando sono arrivata qui sotto che gli ho urlato, lui si è lanciato dal balcone, è arrivato a un metro da me e poi lì c'era un altro ragazzo e si sono avviati a piedi tranquilli. Stava rientrando a casa quando ha visto il ladro nel terrazzo. Ancora un furto in un'abitazione, ancora una volta la vittima che si è trovata faccia a faccia con il malvivente come è successo in via Tiepolo nel quartiere Giotto. I ladri non sarebbero stati intimoriti nemmeno dai quattro cani di grossa taglia. Due dentro e due fuori, loro hanno tranquillamente, sono saltati su, hanno divelto la luce che c'era, hanno forzato la veranda, hanno rotto la porta finestra e a quel punto sono entrati. E hanno rubato gli orologi importanti, anche dei ricordi oltre che il valore, però hanno messo sotto sopra tutto e solo perché sono arrivata magari alle 11, perché se no chissà che cosa trovavo dentro casa. Un episodio purtroppo non isolato. So che hanno rubato anche lì, in quel palazzo lì, in quello lì, in questo qua dietro e dicono che di un altro palazzo qua dietro hanno fatto quattro piani su cinque. Di cosa c'è bisogno? Di più controlli e di più illuminazione, perché se le persone vedono magari qualcuno si accorge, ma se è tutto buio e non si vede anche una persona che passa a piedi, come fa a accorgersi? L'adrinazione anche in via Sansovino. Il primo ha quella terrazza con tutti i fiori, il secondo ha quella casa laggiù che c'è con le due persiane e il terzo l'ha ritrovato a questa terrazza qui, ma quella ragazza che sta lì dove c'è quella cosa in alluminio l'ha visto con la pila e ha vecciato. Lui ha scappato tre salti, uno, due, ha scappato da quella rete lì, ha saltato lì. Nell'ultimo episodio a mettere in fuga i ladri sarebbe stata proprio la vittima che si è trovata faccia a faccia con il malvivente, altri colpi invece sono andati a segno. Addirittura qua su hanno fatto saltare anche una cassaforte senza sentire niente, hanno addormentato i cani, sicché non è gente improvvisata. Tanta l'amarezza e la preoccupazione anche in questo caso da parte dei residenti. Ora male, prima bene, perché se poteva lasciare le chiavi in luce non succedeva mai niente. Io ho lasciato le chiavi in luce, ho lasciato il furgone aperto, le chiavi in lo scudo. Ora tutti si lascia, tutti l'accesa, già qualcuno ha messo l'allarme e si cercherà di attrezzarsi. Non credo che poi pigliano sempre di mela questa zona qui, perché se no allora cambia metterci le guardie nel corpo lì. Ed è stato scoperto dalla Guardia di Finanza un raggiro ai danni di due imprenditori, uno degli Stati Uniti e uno della Giordania. Il servizio. Non erano di oro puro 14 carati, ma monili di ottone placato. Così avevano raggirato due commercianti orafi, uno negli Stati Uniti ed uno in Germania. Ad individuarli e denunciarli per truffa aggravata i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Arezzo al termine di un'articolata indagine. Tutto era partito dalla denuncia presentata da un imprenditore, legale rappresentante di una società araba, a cui erano stati venduti prodotti che non corrispondevano alle effettive caratteristiche contrattualizzate con il fornitore. Le fiamme gialle sono così riusciti a risalire a due persone riconducibili ad una società dell'aretino e le hanno denunciate per truffa aggravata. Una delle due era già nota alle forze dell'ordine. La compravendita riguardava l'accessione di monili in ottone placati in oro al posto di semi lavorati di metallo prezioso. La vittima avrebbe così corrisposto 300.000 euro per oggetti di più ben basso valore commerciale. I beni, oggetto della truffa, sono stati infine localizzati e sequestrati proprio all'atto della spedizione. Il carico è stato così sottoposto a sequestro preventivo. Rimaniamo ad Arezzo perché a Campo di Marte la situazione di degrado non diminuisce. Il Comitato Cittadino lancia l'allarme ai microfoni di Greta Settimelli. Siamo a Campo di Marte ad un passo dalla stazione ferroviaria. Qui gli episodi di degrado urbano ma anche di microcriminalità o macro, a seconda di quello che ovviamente accade, soprattutto legati allo spaccio e al consumo di droga, non diminuiscono come denuncia il Comitato Campo di Marte. Tra l'altro proprio in queste ore è uscito il rapporto sulla sicurezza in Toscana che collocherebbe, uso il condizionale, ma lo colloca il rapporto, poi magari sentiremo cosa ne pensate, Arezzo tra le città più sicure o perlomeno con meno problemi di sicurezza. Voi in questa zona che cosa percepite? Presumibilmente siamo l'eccezione in questa zona di Arezzo. Qui siamo a Campo di Marte, qui la sicurezza non c'è. E penso che in relazione a una cittadina così piccola sia assolutamente elevato qui la criticità della criminalità. In questo posto dove ora siamo noi non ci possiamo venire, se noi in particolari orari e facendo finta dell'attività che qui si svolge. H24, mattina, pomeriggio e sera. Qui c'è lo spaccio continuo di droga e questo è il fatto, con tutte le conseguenze che questo può comportare. Un problema assolutamente noto, non solo ovviamente alla cittadinanza, ma anche, immagino, alle forze dell'ordine. Ci vorrebbe un presidio fisso? L'abbiamo chiesto più volte ad alta voce, ma nessuno ci ascolta, certo che sì, perché penso che quantomeno la presenza qui di forze della polizia, comunque espressione di quello che dovrebbe essere la sicurezza nel nostro paese, creerebbe disagi a chi svolge invece questa attività senza nessun pudore. E dall'altra parte vedo anche che, e forse questo secondo me è il risultato che tende il nostro Stato a conseguire, anche una certa, non dico me ne freghissimo, ma comunque assefazione da parte di noi cittadini di fronte a certe manifestazioni esagerate, veramente di forte violenza, che avvengono in qualsiasi ore, nelle quali io mi ci sono trovata, come credo qualsiasi persona che vive in questi posti. E torniamo a parlare della FIMER perché i sindacati presenteranno un esposto alla Procura di Arezzo in merito alla vicenda dell'azienda. Vediamo. Sono ore bollenti e non per il caldo africano in arrivo allo stabilimento FIMER di Terra Nuova Bracciolini dopo il decreto del Tribunale di Arezzo che ha ritenuto inammissibile l'istanza presentata dai soci sulla base di un accordo all'ultimo tuffo con Grebo e McLaren di proseguire con il concordato e rimandato tutto al Tribunale di Milano. Nelle scorse ore c'è stato un incontro tra le organizzazioni sindacali, la proprietà e il CDA. Oltre a spiegarci e metterci al corrente che loro comunque presenteranno istanza da qui a qualche giorno per la richiesta di un nuovo concordato dove all'interno ci dovrebbero essere dai 4 ai 5 potenziali investitori, ciò che chiedevano a noi come organizzazioni sindacali era riprendere l'attività produttiva e quindi spiegare ai lavoratori che a fronte della loro nuova richiesta di concordato sarebbe stato importante riprendere l'attività produttiva perché è evidente che se si presentano di fronte al Tribunale di Milano con l'ennesima richiesta di concordato con 4-5 potenziali investitori ma la produzione non è ripartita c'è qualcosa che stona e che è una palese contraddizione. Quello che noi abbiamo avanzato come organizzazioni sindacali era una richiesta molto semplice per ritornare tutti a lavorare. Se avete trovato un accordo con Greybull è perché ci sono delle condizioni che sono state accettate dagli stessi azionisti. Quindi qual è il motivo di ripresentare un nuovo concordato dove non c'è più solo Greybull ma ci sono altri 5 investitori? Questa istanza avrà dei tempi tecnici quindi alla richiesta di riprendere la produzione immagino che per il momento sia un no. Per il momento non riprendiamo la produzione anche perché avendogli fatto quest'unica richiesta di presentare un'istanza di concordato con Greybull nonostante l'azionista rimarchi la volontà di continuare le trattative con Greybull ritiene però valore aggiunto riallineandosi guardastrano con il consiglio di amministrazione anche a presentare ulteriori investitori, 4-5 potenziali investitori. Per noi questo non è chiarezza, non è trasparenza, per noi questo è un voler per l'ennesima volta prendere del tempo che non abbiamo più per mille motivi e quindi continua l'occupazione e lo stato di agitazione con il fermo dell'attività produttiva. E ti dirò di più, tra la luce delle verifiche che stiamo facendo anche come organizzazioni sindacali ci spingeremo anche oltre perché penso che vada messa la parola fine a questa avvertenza per il rispetto che deve essere dato ai lavoratori e noi chiederemo anche e faremo anche un esposto alla Procura della Repubblica esponendo alla Procura della Repubblica tutta quella che è stata l'avvertenza dal momento in cui ABB ha ceduto a FIMER fino ad i giorni nostri. E adesso la politica. Il PD aretino polemizza sulla mancanza di posti ai nidi aretini. La misura promossa dalla Regione Toscana Asili Gratis spiegano non potrà essere utilizzata da circa 100 famiglie aretine. Il motivo è tanto semplice quanto prevedibile. Il Comune di Arezzo non ha sufficienti posti a disposizione per soddisfare le domande. Ebbene sì, nel 2023 spiegano ancora i consiglieri del PD nel Comune di Arezzo i servizi per l'infanzia non sono ancora diritti universali. In otto anni di governo da parte della destra retina gli investimenti su questo importante tema sono infatti stati minimi. Per non parlare dei posti riservati ai lattanti problema su cui ormai da anni vi è una domanda storica in evasa. E ora cosa fare per risolvere il problema? Noi una proposta ce l'abbiamo, continuano i consiglieri del PD che il Comune di Arezzo tramite voucher babysitter riservi risorse proprio per il 2023 per dare risposte alle circa 100 famiglie escluse dalla misura nidi gratis. Nonché, dato che la misura è valida per due anni ove l'età lo consenta, venga previsto per il 2024 il diritto di accesso garantito agli esclusi, conclude la nota del PD del gruppo consigliare Aretino. E adesso parliamo di un allarme lanciato dalla FPCGL in merito alla misericordia. Dopo mesi di trattative su tutto il territorio nazionale, la Confederazione delle Misericordie non ha voluto sottoscrivere il contratto collettivo nazionale di lavoro Ampas Misericordie per l'unificazione dei due contratti operazione funzionale alla successiva ricomposizione contrattuale con il contratto della Croce Rossa italiana come da verbale di accordo del 4 giugno 2021. È la funzione pubblica della CGL di Arezzo a denunciare la situazione ed a annunciare un presidio a Firenze proclamando anche lo stato di agitazione a livello nazionale per un rifiuto definito penalizzante ed ingiusto. Di fatto, con il mancato rinnovo del contratto, la Confederazione delle Misericordie non sta dando risposte ai lavoratori, secondo il sindacato, sia per gli aspetti contrattuali e normativi che per la parte economica, sostenendo che non può riconoscere i lavoratori aumenti salariali come invece erogati da Ampas, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Misericordie prosegue la funzione pubblica non riconosce un aumento salariale a quei lavoratori che sono stati in prima linea durante la pandemia e che ancora oggi continuano il loro operato a tutela dell'utenza fragile. Non è tollerabile per la CGL che parità di mansioni svolte ci siano disparità di salario dunque, dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione dello scorso maggio al Ministero del Lavoro, concludono i sindacati, siamo costretti a proclamare lo stato di agitazione a livello nazionale per la Toscana il 21 giugno nella sede della Federazione Regionale delle Misericordie dalle 10 alle 12. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla giostra del Saracino e ripercorriamo i momenti salienti della 143esima edizione. In Piazza Grande c'era per noi Greta Settimelli. Esplode la gioia in Piazza Grande per i colori bianco-verdi a portare a casa questa lancia d'oro e il quartiere di Porta Sant'Andrea dopo uno spareggio combattuto con Porta del Foro. Il digiuno di Sant'Andrea durava da 5 anni e è stata una giostra che fin da subito ha fatto capire chi poteva contendersi la Lancia d'Oro ammirata dalla Tribuna d'Onore anche da Luca Cordero di Montezemolo. Amo molto Arezzo. Arezzo, guarda che vedere questa piazza anche se è stata un po' rimpicciolita tanti tanti anni fa però è una bellissima piazza e poi perché siccome ho degli amici tra cui Francesco che mi parlavano sempre di questa giostra la volevo vedere quindi sono contento di essere qua. I favoriti Porta Santo Spirito sono usciti nelle prime carriere così come Porta a Crucifera il primo 5 della serata è stato proprio quello di Sant'Andrea con il giovanissimo Saverio Montini il secondo di Porta del Foro con Francesco Rossi e così con 9 punti a testa sono andati agli spareggi. Porta del Foro ha marcato subito un bel 5 così come Sant'Andrea è nelle seconde carriere di spareggio che Sant'Andrea fa la differenza. Porta del Foro marca un 4 il 5 di Tommaso Marmorini invece consegna la Lancia d'Oro al suo quartiere. Non ci sto credendo perché abbiamo fatto un lavoro allucinante durante l'inverno e siamo riusciti a riportarlo poi in piazza. Ho sbagliato il tiro della carriera ordinaria infatti ero molto dispiaciuto. Il capitano mi ha dato fiducia mi ha mandato me sono riuscito a fare 5 e poi Saverio un mostro è un mostro veramente. Non ci credo veramente non è tanto per dire ma è sempre stato il mio sogno correre ci sono arrivato l'obiettivo successivo era fare bene vincere stasera ci siamo riusciti abbiamo ancora tanto da lavorare però intanto questa soddisfazione ce la meritiamo. Una lancia che porta una firma quella di Martino Gianni già vincitore di 13 lance come giostratore poi allenatore di Porta Santo Spirito ora tornato al suo quartiere. il cuore era sempre stato bianco verde lavoravo per un altro quartiere soddisfazioni tantissime dei ragazzi bravi ma altrettanto l'ho trovato qui. Paolo Bertini delegato del comune di Arezzo alla giostra del Saracino traccia un bilancio dell'edizione di giugno focus sulle novità di quest'anno prova simulata e consegna lancia in piazza. Dal maltempo che ha fatto saltare una serata di prove che ha portato anche a far slittare di un'ora la simulazione di giostra alla caduta da cavallo di Lorenzo Vanneschi nella prima serata di allenamenti e l'incidente di Filippo Vannozzi durante la prova generale poi annullata. Insomma una settimana di certo non facile per la giostra del Saracino che per questa 143esima edizione ha visto anche due importanti novità oltre alla simulazione di gara anche la consegna della lancia d'oro dal palchetto dell'Araldo a tracciare il bilancio adesso il consigliere delegato alla giostra Paolo Bertini Ma il bilancio è positivo soprattutto nel suo epilogo finale la giostra è scorsa bene è stata tecnicamente valida bella e poi questo dubbio della consegna che in qualche modo preoccupava un po' tutti è stato sicuramente superato con il massimo dei voti perché c'è stato davvero una consegna felice il quartiere che ha vinto si è comportato in maniera assolutamente corretta secondo quelle che erano state le disposizioni e è venuta fuori una buona premiazione io lo ritengo un primo passo perché intanto la lancia è tornata in piazza che era una cosa importante che tutti chiedevano e poi vediamo se prossimamente ci sarà modo di fare un ritorno definitivo verso la tribuna questo è un attestato che il mondo della giostra ha dato a chi ovviamente deve prendere certe decisioni che la fiducia accordata era meritata per quanto riguarda le prove della settimana purtroppo sono state guastate in maniera importante dal tempo che ci ha praticamente bagnato tutte le sere il progetto che avevamo in testa della prova simulata sicuramente non è andato per il meglio proprio per queste incertezze dal punto di vista meteorologico vediamo se è il caso di rimetterci le mani ora mi confronterò con i rettori vediamo se c'è necessità di rimetterci le mani per rivederlo oppure se confermarlo per avere un test affidabile e veramente completo per la giostra di settembre e la 143esima edizione della giostra del Saracino ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune Chimet Orchidea Preziosi e Chimera Gold e tra i posti in piedi sabato 17 giugno erano presenti in totale in piazza Grande 3.655 spettatori che hanno fatto registrare un incasso pari a 116.792 euro un dato che conferma la massima attenzione verso la giostra del Saracino che sia tra gli aretini che tra i turisti riscuote ad ogni edizione massimo interesse ben al di là delle disponibilità di pubblico possibili in piazza per la prova generale di giovedì 15 giugno erano presenti 2.663 spettatori per un incasso totale di 14.791 euro e sempre in tema di giostra ha tenuto banco soprattutto sui social la polemica sul tiro di Gian Maria Scortecci il fuoriclasse di Santo Spirito che ha marcato punti 2 mentre i sostenitori se la sono presa con la giuria convinti che fosse un 5 ai microfoni di Chiara Sadotti spiega meglio com'è andata ascoltiamola sono svegliato già in uno stato emotivo diciamo così amaro e nulla nel piano di questa amarezza stavo un po' sfogliando i social ho visto che si era acceso un sacco di polemiche riguardo al presunto diciamo cattiva interpretazione del punteggio io in realtà dalla mia non l'ho fatto col volere di rendere pubblico ho semplicemente commentato un post nella banca di un mio amico dicendo che guardate sono quasi sicuro che vedendo così come il fotogramma come veniva mostrato questi fatti di un 2 però insomma l'aveva già detto la giuria non c'è bisogno più di eccessivo è stato lo stesso giostratore tramite social a cercare di placare le polemiche uno nei momenti decisivi della 143esima giostra del Saracino è stato infatti senza dubbio il primo tiro di Gian Maria Scortecci veterano della piazza e con alle spalle tante lance d'oro vinte subito dopo l'impatto con il buratto il giostratore aveva alzato la lancia al cielo poi la doccia fredda con le parole dell'araldo il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti due un verdetto che aveva acceso numerose polemiche in realtà in realtà sto piuttosto inatteso perché io vuoi per la velocità in cui si vede il tabellone girare vuoi per il tipo di timbrata che effettivamente trae un po' un inganno anche in un fotogramma quindi figuriamoci a velocità normale e per lì non me l'aspettavo ero convinto di aver fatto cinque nonostante la carriera non fosse stata bellissima quindi anzi questo mi dava ancora più gioia e beh due ora non è un bel ricordo di rievocare il momento in cui l'araldo ha detto due però questa fa parte della giostra sicuramente in tanti hanno gioito diciamo così mi rammarica questa cosa ecco intanto ci si prepara per la prossima edizione insomma non manca molto sì per fortuna questa è la giostra di giugno quindi abbiamo due mesi e mezzo per per prepararsi per qua di settembre non credo che dobbiamo fare grossi stravolgimenti o ho qualche idea su quello che può essere migliorato però ecco non dobbiamo stravolgere niente sicuramente avremo avrò anche personalmente ancora più carica ancora più voglia per così dire perché ecco non sono tante abituate alla sconfitta e ho un sapore che non mi piace c'è stato anche un importante ritorno in piazza in questa ultima giostra quello di Martino che voi ovviamente avete conosciuto molto bene cosa ha significato per voi il suo rientro in piazza no per noi io sin dall'inizio insomma ero stato molto molto contento per quanto sapevo e avevo anche previsto avevo anche diciamo rilasciato ad alcuni colleghi la mia idea che avrebbe sicuramente portato un valore aggiunto a Sant'Andrea e credo che questo si sia visto io credo che sia intervenuto sia sulla tecnica ma anche sulla sulla agonismo sulla capacità mentale di questi due ragazzi che già erano bravi perché insomma tutte e due avevano già fatto cinque Tommaso aveva già vinto ecco quindi sicuramente l'avrebbe arricchiti da un certo punto di vista mi ha fatto piacere che abbia vinto Martino per la riconoscenza e la gratitudine che noi si confrontano dall'altro insomma meno perché comunque in questo momento è un mio rivale chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla giostra e segnaliamo un lutto per la comunità di Monte San Savino che piange la scomparsa di Daniela Galantini compagna del primo cittadino savinese Gianni Bennati è deceduta ieri mattina dopo una lunga malattia anche l'amministrazione comunale di Arezzo esprime il proprio cordoglio e adesso passiamo alla pagina sportiva la Galv Ar Sba Under 14 Silver è campione regionale una grande partita chiusura di una tre giorni giocata ad alto livello per la Galv Ar Under 14 Silver che nella finale per il titolo ha piegato la resistenza dei padroni di casa del Pino Dragons Firenze il punteggio finale premia meritatamente la Sba che si prende il successo per il 70-52 e può festeggiare all'ultima sirena una straordinaria vittoria dopo una tre giorni perfetta dove i ragazzi sono stati capaci di battere Laurenziana e Pino Firenze in casa propria e la Fides Montevarchi un risultato che mette la classica ciliegina sulla torta della stagione della scuola basket Arezzo che chiude le cinque finali regionali con due vittorie e tre secondi posti oltre al secondo posto nel Junior NBA con l'Under 13 e due atleti del centro taekwondo di Arezzo ai vertici del taekwondo giovanile italiano sono Lorenzo Franchi e Giulia Mocerino che hanno vissuto l'emozione di conquistare una medaglia all'Olympic Dream Cup che nella suggestiva cornice del Foro Italico di Roma ha rinnovato l'appuntamento con la più importante manifestazione rivolta alle rappresentative regionali la squadra della Toscana ha fatto affidamento su ben quattro ragazzi della società retina che sono stati protagonisti di incontri di alto livello a emergere sono stati Franchi che ha conquistato l'argento e Mocerino che ha invece meritato il bronzo e con questo è davvero tutto per la nostra pagina di informazione io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata grazie